L'arte fa parte della mia vita. Cerco di trasmettere al pubblico la mia passione personale, perché per me l'arte è prima di tutto uno strumento per indagare una dimensione esistenziale. Il potere dell'oggetto artistico non smette di sorprendermi. Mi piace quando posso convivere con le opere che mi hanno colpita. Riconosco loro la capacità magica di ridefinire lo spazio intorno a sé e di entrare a far parte della mia quotidianità e trascenderla. Diventano uno strumento di meraviglia che apre squarci su una dimensione profonda in cui l'immaginazione, la bellezza e il progetto ci aiutano a definirci come esseri umani. Ci aiutano a essere umani. Grazie. 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 Grazie.